Dopo un'anteprima il 9 dicembre per i giovani, l'11, il 12, il 13 dicembre, la vedova allegra di Franz Lear, nel nuovo allestimento della Fondazione Pergolesi Spontini con la regia di Vittorio Scarbi, ha concluso la 48esima stagione lirica di tradizione del Teatro Pergolesi di Iesi. La Fondazione Pergolesi La Fondazione Pergolesi Da accompagnare gli attori sul palco la Form, orchestra filarmonica delle Marche, diretta da Antonio Pirolli, e il coro lirico marchigiano Bellini. La Fondazione Pergolesi La Fondazione Pergolesi La Fondazione Pergolesi Si avvale del sostegno del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e del sostegno della Regione Marche, con il padrocinio del Consiglio Regionale delle Marche. Tra le tante iniziative collaterali al cartellone, al Teatro Pergolesi la mostra fotografica a cura di Armando Ariostini dal titolo Scorci d'opera, lo smartphone, spia, i più bei teatri del mondo. La Fondazione Pergolesi 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 Grazie a tutti